Fino a 5-6 anni fa la stampa 3D era principalmente prototipazione e poi con l'innovazione tecnologica la stampa 3D è arrivata anche in produzione. Per me produzione è anche una produzione ponte perché il mondo evolve velocemente e se io ho la possibilità di utilizzare la stampa 3D per iniziare una produzione di un prodotto attraverso la stampa 3D che mi riduce i costi di creazione stampi piuttosto che di attrezzature mi permette di entrare sul mercato, capire come funziona quel prodotto e a quel punto se i numeri eventualmente evolvono e mi danno garanzie nel corso del tempo nulla mi vieta poi di passare a tecnologie che da certi punti di vista sui numeri possono diventare più convenienti. E chiaramente nel momento in cui ragiono in termini di produzione devo conoscere il processo. Quindi per conoscere il processo bisogna studiare, bisogna capire perché come un progettista progetta per lo stampaggio e iniezione, progetta per le lavorazioni meccaniche così un progettista ha necessità di imparare come funziona la stampa 3D per capire come progettare bene perché se non progettiamo correttamente non riusciamo a sfruttare tutti i vantaggi. Grazie 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 Grazie